Ragazzi oggi andiamo a completare la sfida tra Hoffenheim e Bayern Monaco Apriamo anche il pacchetto a fine video Vi faccio vedere la squadra presto presto Anche questa molto molto facile la sfida Gli incontri principali sono più o meno tutti così facilissimi Io come giocatore ho usato la Bundesliga e la Ligon E questo è l'ultimo, se non trovate questo potete mettere qualsiasi giocatore della Ligon Come C.O.C ma io quello l'ho trovato al prezzo più basso quindi l'ho comprato E abbiamo un Misty Premium, vediamo Non è Workout Rossiero Ok, abbiamo giocatori da vendere E gli altri li mandiamo al club Questa è stata la sfida di oggi Io vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo con un prossimo Ciao ciao